ciao da francescoliportierecalcio.it in questo video ti presento l'edizione 2022 del roich attract acqua modello specifico con una costruzione abbastanza tradizionale per essere utilizzato soprattutto in situazioni di campo bagnato come dicevo è un guanto con una struttura tradizionale lo vediamo sin dal polsino e dal centurino polsino in tessuto elasticizzato e polsino con chiusura a velcro non elasticizzato dicevamo struttura del guanto in un materiale un po più leggero adatto a campi bagnati lattice acqua è un lattice specifico per essere utilizzato in situazioni umide o bagnate ma questo non toglie che possa essere utilizzato anche sui campi asciotti quindi in condizioni da asciotti basta attivare correttamente il guanto prima di utilizzarlo il taglio è il solito evolution cut negativo inserti laterali in lattice sul dorso come detto questo materiale tessile trapuntato leggero è rinforzo sulle nocchie con lattice quindi non è un modello con frigel non è un modello col silicone il silicone è limitato giusto alla zona della r e della scritta di the one quindi in definitiva la tract acqua è un modello che può essere consigliato a chi vuole un guanto specifico per il bagnato quindi da affiancare al suo modello a chi non ha problemi ad avere più paghe di guanti vuole un modello con un lattice così particolare dal grande grip e da una resistenza che non è più terrificante come poteva essere sino a qualche anno fa o semplicemente per chi vuole un modello diverso rispetto agli altri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti